A volte ci si imbatte in libri davvero particolari e quello che è successo a me leggendo il libro di Han Kang, L'ora di greco, edizioni Adelphi. L'autrice coreana ha scritto questo libro nel 2011 e oggi Adelphi ha reso fruibile la sua lettura attraverso appunto la pubblicazione del testo con la inevitabile traduzione. Perché diceva un libro molto particolare? Perché di questo libro non è tanto importante la ricostruzione della storia, della trama, quanto il fatto che la storia in sé, o meglio i protagonisti, instaurano con il lettore. In quanto c'è un'interpretazione, o meglio, non esiste un'interpretazione univoca di quello che viene raccontato, ma c'è un'interpretazione soggettiva che ciascun lettore potrà formulare man mano che le pagine del libro vengono ad essere lette. Due sono i protagonisti, di cui l'autrice non specifica mai il nome. C'è una giovane donna che decide di rinchiudersi nel silenzio, quindi rifiuta il linguaggio, quando si trova a vivere situazioni emotivamente difficili, emotivamente toccanti. Infatti si scoprirà man mano leggendo il libro che ha una situazione fallimentare, affettiva alle spalle, che ha reso impossibile distante il rapporto con il figlio. C'è poi un professore, un professore che è emigrato in Germania ed è rientrato a Seul e che insegna appunto greco, ma il professore è una persona che sta perdendo a poco a poco la vista. Tra i due si crea un rapporto davvero particolare. La giovane donna in un certo qual modo è consapevole che il greco è una lingua morta ed è in questa consapevolezza che trova una sorta di pacificazione, una sorta di rassicurazione. Il professore ritrova in questa giovane donna di cui riesce a riconoscere solo il profilo del cappotto, avendo appunto problemi di vista. In questa giovane donna il professore quindi riconosce un modo di approcciarsi all'esistenza e al quotidiano che fa riferimento a una lentezza, una lentezza che lo colpisce e nel quale viene risucchiato. Come dicevo precedentemente, l'elemento fondamentale in questo libro è quanto i protagonisti riescono a stabilire con il lettore, cosa riescono ad evocare attraverso la lettura e attraverso la relazione che essi stessi instaurano tra loro. Infatti anche attraverso il linguaggio che l'autrice utilizza nel corso del libro si noterà come il tutto tenda a sfogliarsi delle pagine ad affievolirsi. Anche le parole risultano essere sempre meno, sempre più essenziali. Il tempo. Il tempo pare essere la forma, il modo per poter acconsentire al silenzio del linguaggio. Un linguaggio che è complesso e che in un certo qual modo diventa elemento stesso di una frattura, di una incommunicabilità ed è nell'incomunicabilità che emerge qualcosa di interessante, qualcosa che riesce ugualmente a trasmettere al lettore il senso di una riflessione, il senso di una forte empatia con i personaggi che di volta in volta si confrontano in un silenzio, in una cecità sempre più evidente. Quindi consiglio la lettura del libro L'ora di Greco per tutte queste motivazioni e per vivere un'esperienza in solitaria del tutto personale.